Salve, sono Luigi Mastriani, presidente della Hermes Campania, la società che organizza questo triathlon a Policastro. È la prima edizione, abbiamo deciso di organizzare questa gara anche a Policastro dopo il successo avuto in due anni di seguito col triathlon di Sapri, 2013-2014, il campionato italiano assoluto organizzato per la prima volta al sud Italia. Non è mai stato organizzato, abbiamo avuto questo onore dalla Federazione Italiana Triathlon. E quindi sulla scorta di questo successo abbiamo deciso di proporre una gara simile anche a Policastro. Policastro, in genere tutto il golfo, si presta molto bene per l'organizzazione di questi eventi all'aria aperta, perché si concilia molto bene il discorso della natura con la questione sportiva. Quindi ci saranno atleti provenienti da tutta la regione, anche da fuori regione, dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Calabria, che verranno a gareggiare questo weekend 13 e 14 giugno a Policastro. Adesso passo la parola al tecnico della società che spiegherà brevemente i percorsi. La sera io sono Roberto Fonseca, sono il tecnico della società, vi parlerò brevemente di quello che saranno i percorsi. I percorsi si svilupperanno in un'area centrale, che è la zona cambio, dove passeranno tutte e tre le frazioni, che sono il nuoto, la bici e poi la corsa. Ci sarà un olimpico il 13, il sabato, e lo sprint la domenica. L'olimpico, le distanze sono 1500 metri di nuoto, che si faranno sull'esterno del porto aggirando due boe, e poi si ritornerà sulla spiaggia. Gli atleti torneranno nella zona cambio, prendono la bici e vanno in bici verso, diciamo, Torre Orsaia. Ci sarà un giro di boe, dove torneranno e faranno cinque giri. Ritorneranno in zona cambio e poi di corsa faranno due giri del paese, passando per il centro del paese. Quindi sarà molto bello, molto caratteristico. Per quanto riguarda lo sprint, invece, le distanze sono dimezzate, quindi 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 di corsa. Stessa cosa per l'acqua, naturalmente più corto, in bici tre giri soltanto, e la corsa si farà sul lungomare. Si faranno due passaggi da due chilometri e mezzo sul lungomare. La domenica ci sarà anche il paratriathlon, che è una gara a livello nazionale, si svolgerà nel paese. Questo per quanto riguarda le gare. Altra cosa che bisogna dire, noi in questo weekend siamo stati a Porto Santerpidio per i campionati giovanili, proprio sulla scia dei campionati italiani, e stiamo costruendo e ci stiamo organizzando per far crescere i ragazzi. Lui è uno di questi, si chiama Vincenzo Sanmartino, che è arrivato il diciassettesimo assoluto nella categoria Yacht B, e nello sprint che è stato fatto ieri è arrivato primo della sua categoria, quindi ci sono ottime speranze per lui.